Un'indagine sul lavoro, demografia, edilizia e sicurezza sanitaria in Piemonte. Questi temi raccontati attraverso dati, grafici e tabelle dal volume Piemonte Esplorazione Statistica, redatto dal settore Statistiche e Studi della Regione e presentato venerdì 11 maggio durante un convegno a Palazzo Lascaris. La pubblicazione costituisce un'ampia raccolta di informazioni statistiche, di rappresentazioni grafiche e cartografiche derivanti da fonti ufficiali europee, nazionali e regionali, riferite agli anni 2010-2011. La situazione economica piemontese in questo momento sta soffrendo un momento di difficoltà che purtroppo perdura ormai dal primo trimestre e questo incide purtroppo anche sul settore esportazioni. C'è da dire che il saldo della fiducia è un po' in peggioramento, ma la tendenza della ripresa potrebbe dare dei risultati nei prossimi mesi.